Le poesie di Alma Buongiorno a tutte e a tutti amiche e amici di Social Podcasting, sono Luca Gamberini e per Alma Poesia vi leggerò una poesia inedita di Riccardo Marzoli, Il cane cerca casa. Ho accartocciato tutti i vestiti e le scarpe e i documenti e le lettere d'amore nelle valigie vuote. Qui incontro solo pazzi o puttane o vecchi artisti ma io sono solo un cane che cerca casa e qualche carezza dietro l'orecchio quando piange. Il cielo